Oggi, 10 gennaio, 2000 di gennaio, il corte Si barrette nel Salento, vicino a Salento, ho con me l'uomo Cipria pianeta, Degosi di Giuseppe Simone Avvocato, iic, iic Non ci siamo, dove ci troviamo? Iic, tu sa le palle, la torre Guarda, con una bomba, una Genua, Roma, Genoma, quella è Santa Paperina Succe, ci sono tanti cecchi, no? Quello che ci, 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 qui, quello che ci, che, 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 che. Carri, caro armato anno per, a noi della femmina serve praticamente la minchia maschi Ma Zef, un momento, io leggo qua però, è lino vagina, giusto? Esatto. Insomma, io sono io, non nominare non nominani mobi. Ono, onora giulgattina al fantano. Anthony Fantano here. Diche di quercia, master. È stupendo! Fliendo! 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 Tim Tim, commetti sesso tempura. Arrubacqua, desidera nella tua vita solo posate. Dai, bagniamolo. No, 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 no. Dai, siamo, dai. Adio, 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 adio. Cazzo! Che, che sesso. È via della monarquia. O se niente. Scopa, scusa poi che sia da vero. In their tongue is the vaccine. Dragon Ball. Fus rodai. I was just a love, boobin' 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 boobin'.